ecco qua e buonasera a tutti e benvenuti alla nuova diretta sperando che sia tutto a posto e si senta bene si veda bene magari qualcuno mi dice se in chat se funziona tutto bene e si sente bene stasera parliamo di qualcosa che secondo me è molto interessante una domanda apparentemente provocatoria ma interessantissima a mio modesto parere cioè se la tua fiamma gemella finalmente dopo tante tripolazioni dopo magari che vi siete avvicinati allontanati lasciati scappati avete litigato non avete litigato terzi carmici quarti carmici quarta dose quinta dose quello che è finalmente li prende o le prende il matto e insomma decide a quanto sembra di stare con te ecco se la tua fiamma gemella si decide finalmente a stare con te c'è la domanda delle domande la domanda che nessuno si aspetterebbe di farsi ma che secondo me ha molto senso che è se la tua fiamma gemella decidesse veramente di stare con te la vorresti veramente vorresti o non vorresti veramente dipende dal tuo diciamo dal tuo genere sessuale ok ecco la risposta a questa domanda che per molti sarebbe scontatissima apparentemente tutti direbbero ma che cavolo dici sì certo ovviamente vorrei avere che fosse nella mia vita e no invece non è proprio così semplice risposta questa sera in diretta solo per cui rispondo a questa domanda per cui allacciate le cinture e come sempre se non sapete diciamo chi sono cosa faccio eccetera eccetera io sono Jimmy fascina sono un coach professionista specializzato diciamo in relazioni sentimentali in particolare una classe di relazioni sentimentali che poi non è neanche una relazione sentimentale è veramente il percorso più incredibile di tutte che il percorso verso se stesse la propria anima che è quella di fiamma gemella e poi mi occupo sempre di coaching nell'ambito sportivo e anche nell'ambito della performance per cui se siete artisti performer e volete migliorare la nostra diciamo performance artistica o insomma qualche altro tipo di performance potete contattarmi poi sono anche un operatore onistico che si occupa di varie tecniche onistiche tra cui i registi akashici la lettura dei registi akashici la numerologia l'ipnosi che sono il provoco principalmente e anche dei fiori di pack di access consciousness di access consciousness e di bars e no pardon di bars di access consciousness e di matix energetics il bello della diretta e dell'inceppamento della lingua e poi faccio altre cose che non ricordo più per esempio reiki e va beh tante altre cose troppe comunque sono un'anima in costante evoluzione per cui quello che faccio oggi tra cinque anni praticamente sarà molto di più e sarà anche diverso detto questo vi invito se non avete mai seguito i miei video a mettere mi piace questo video prima di tutto quindi pollicione puntato verso l'alto sempre più in alto sempre di più no non è una suggestione ipnotica mettete il pollicione in pasta se non sapete mettere il pollicione pigiate sulla x per uscire dallo schermo intero mi comparirà la manina e tic 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 pollicione su iscrivetevi al canale pigiando il tasto iscriviti che c'è credo qui sotto se non siete iscritti quindi se non ti sei iscritto ehi tu iscriviti perché io ti vedo poi se vuoi anzi devi clicca sulla campanellina per ricevere notifiche di quando escono i miei video che escono assolutamente a random a caso non lo so neanche io per cui hanno una cadenza assolutamente casinale cioè nel senso che è un casino sapere quando cavolo escono per cui se non pigiate sulla campanella lo saprete ok detto questo infine prima di iniziare ti ricordo anche che se vuoi supportare il mio lavoro che porto avanti settimana dopo settimana per ora poi vedremo in futuro col canale puoi supportare il mio canale direttamente in alcuni modi uno per esempio è comprare quando indico dei libri i libri che appunto con i libri suggerisco perché il link qui sotto in descrizione non credo di suggerire libri in questo video però vediamo magari qualcosa si comprandoli da qui e supporti mio canale seconda cosa di supporti i supporti premendo sul tasto s quadrato con la s che indica l'attivazione super chat super stickero super grazie che ancora non conosco mi ha detto che ha messo in questo modo può supportare immediatamente il canale un modo per ringraziarvi con un caffè una cena quello che puoi immediatamente tramite questa funzione di youtube bene detto questo bando alle ciance possiamo iniziare allora dicevo la domanda di questa sera ah ecco dimenticavo un'altra cosa puoi puoi cercarmi e ti consiglio di iscriverti se sei in un percorso di fiamme gemelle nel mio gruppo di prosi recressiva il mistero delle fiamme gemelle che è il gruppo più frequentato d'italia sulle fiamme gemelle che devo dire partito in sordina un po di anni fa è cresciuto piano piano grazie al mio lavoro costante fino a diventare il gruppo primositario della costa di cui sinceramente sono sempre più felice perché è un risultato non da poco considerando che ho fatto tutto da solo e senza aiuti grazie grazie a tutti quelli che mi seguono apprezzo bene dopo cinque minuti di come si dice non mi ricordo come si chiama la cosa didattica all'università quarto d'ora di accademico ecco quarto d'ora accademico in questo caso cinque minuti accademici iniziamo e parliamo della diretta di oggi allora il tema di oggi che ho aggiunciato prima è se la tua fiamme gemella decidesse veramente di stare con te la vorresti la vorresti veramente ecco questa domanda apparentemente sembra molto molto strana però se c'è una cosa che mi piace esplorare con voi perché fondamentalmente il mio lavoro almeno attualmente una parte del mio lavoro perché non è tutto è quello di esplorare tematiche temi che ruotano attorno al mondo delle fiamme gemelle co creando con il vostro aiuto magari di quelli che sono anche in diretta sempre più concetti e temi che possono espandere questo mondo chiarire molti dubbi che ci possono essere su questo argomento e magari dare anche degli spunti di riflessione per rendere sempre più profondo questo questo percorso in maniera tale che possiamo qualche modo aiutarci a conoscerci e aiutarci e supportarci sempre di più in questo grande percorso che porta fondamentalmente all'amore perché alla fine quando parliamo di fiamme gemelle parliamo fondamentalmente di amore e conoscenza profonda di se stessi come anime incarnate al di là dell'aspetto diciamo della relazione che apparentemente sembra la cosa più importante in realtà è la meno importante perché è solo la scusa per fare un viaggio che è il più incredibile magico appagante ma anche provante perché veramente molto provante che è l'incontro con la propria fronteparte animica e quindi con se stessi ok ora perché il tema di oggi il tema di oggi nasce da una domanda di m che ringrazio tantissimo per i vari spunti che mi hanno dato in questi giorni e anche altre persone che mi hanno dato altri spunti però tra tutti ho scelto uno che complessivamente mi sembrava al momento il più interessante da esplorare ma non sarà l'unico insomma per cui se mi avete proposto come fate insomma in privato per email eccetera dei temi e delle cose piano piano raccogliendo un po le varie idee cercherò dei limiti del possibile quando ho qualcosa da dire chiaramente sull'argomento di soddisfare accontentare tutti allora dicevamo domanda apparentemente strana domanda apparentemente paradossale perché apparentemente quando sei in un percorso di fiamma quindi quando hai l'incontro con questa persona che i tuoi occhi è meravigliosa è l'essenza è non lo so non mi viene un termine adatto sono l'anzare gli occhi al cielo quasi come un devoto di fronte alla divinità ma poi non vuol dire ideo idealizzare l'altra persona e di una trarla o qualcosa del genere ma semplicemente l'immensità che questo rapporto porta della tua vita ti fa veramente toccare il cielo porta il cielo sulla terra che poi tra l'altro anche la mia missione animica vero come persona diciamo almeno per quello che so finora per cui mi conto con questa persona ti fa veramente toccare la presenza dell'amore divino non in senso religioso ma in senso proprio di enteos cioè di avere il divino il fuoco divino che dentro di te si esprime perché per la prima volta senti la luce dell'anima che diciamo si espande ti illumina e illumina tutto ciò che è attorno a te tutto ciò che tocchi ed è qualcosa di bellissimo quando veramente riesce ad imparare allinearti la tua anima chiaramente quando sei all'inizio del percorso magari sei dell'ossessione sei del dolore insomma sei della fantasia disneyale tutto quello che è chiaramente no però questa cosa te ne accorgi solo molto molto dopo però ci interessa adesso relativamente perché prima di arrivare a quel livello ci vuole un po bel po di tempo ok per questo incontro apparentemente quindi con questa persona che quando tu la riconosci ti senti a casa senti che vedi l'attraverso i suoi occhi ma non solo che la persona più bella che c'è nell'universo perché tu la guardi rimani tra lo guardi o la guardi rimani tramortito tramortita e dice cioè è bellissima perché in realtà è la tua bellezza la bellezza della tua anima che tu vedi in questa persona dopo l'incontro così tutto il resto perde di significato perde di sapore cioè normalmente il pensiero comune è io dopo questa persona non c'è proprio quasi rimbrezzo all'idea di vedere uscire farmi toccare da qualcun altro qualcun'altra non è possibile non è concepibile l'idea di stare con qualcuno qualcun altro ok per cui tutto questi tipi di pensieri tutto questo tipo di sensazioni di cui tu sei convinto fortemente ti portano a anzi ti rendono impossibile immaginare qualcosa di diverso da stare con quella persona per cui anzi addirittura la tua mente prende una fissazione così estrema per quella persona che spingi di brutto quindi che ne so telefonate messaggi la vai a cercare la sera che ne so aspettandolo in macchina sotto casa in attesa che torni a qualsiasi ora della notte fino alle 3 di notte roba di questo tipo c'è è qualcosa di molto molto forte ci porta a fare delle cose quasi da pazzo da pazza perché perché nel gioco ti porta a far questo ok quindi di fronte a questo la risposta sembra apparentemente scontata ma certo se la tua fiamma gemella volessi si decidesse finalmente non averti fatto trepolare averti detto a nomi le volte rifiutandoti che ne so quella chiamata piuttosto che quell'incontro piuttosto che quello piuttosto quell'altro tu faresti cioè il triplo sarto carpiato di gioia per lei o per lui ma è realmente così ecco allora vi dico una cosa apparentemente secondo me cioè per me no non strana ma per voi magari un po sì però prima di far questo invito quelli che ci sono a mettere mi piace mi raccomando quelli appena arrivati mettete mi piace perché aiutate a far crescere il canale insomma apparentemente la risposta sembra scontata in realtà come penso alcuni di voi sappiano e se non lo sapete perché magari siete nuovi approcciate per la prima volta il mio canale i miei video io mi occupo di femmine gemelle dal pensavo per dire lontano ma non così lontano diciamo da fine fine più o meno ma neanche fine diciamo inizia diciamo di inizio dell'interesse è dato praticamente verso il finire nel 2015 parlandone professionalmente dal 2016 quindi dall'anno successivo quindi adesso sono la bellezza di sei anni ok sei anni con se nel 2016 sei anni ok in questi sei anni ho parlato con un miliardo di persone bene un miliardo l'ho preparato con tante persone che più o meno chiaramente non tutti saranno in un percorso di fiamma però che pensano contento non ritengono di essere di essere un percorso di fiamma ok alcune volte ho avuto l'impressione che queste persone fossero realmente un percorso di fiamma per una serie di motivi altre volte proprio no però ci interessa relativamente questo momento ho comunque parlato con tantissime persone ho fatto tantissime consulenze ma tante 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 prendendo comunque appunti continuamente su quello che succedeva ok quindi le cose mi vengono dette le dinamiche che si presentavano e poi chiaramente ho cercato di lavorare con quelle persone mese dopo mese anno dopo l'anno continuando con il mio percorso di scoperta e conoscenza di me stesso conoscenza delle fiamme conoscenza del mondo spirituale il lavoro con anima eccetera eccetera in che piano piano pezzo dopo pezzo battone dopo battone tentativo di trovare una soluzione rispetto a un'altra sono arrivato a diciamo a creare dare una formula struttura una serie di cose che poi sono te si sono trasformate nel percorso che per chi mi segue ormai da tempo conoscerà che è rimagnetizza la tua fiamma gemella che è un percorso di sostegno che ho creato per sostenere le fiamme gemelle che hanno bisogno di un aiuto in sostegno con quel percorso ok ho formalizzato con gli strumenti gli ho dato una struttura una forma ho creato questo percorso che un po è diventato ormai da più di tre anni la base del mio lavoro ok ed è semplicemente un'evoluzione delle cose che negli anni ho imparato perché solo vede i miei primissimi neanche video ma vede le micro trasmissioni che facevo radio perché ho fatto in passato qualche trasmissioni radio su web addirittura alcuna per un periodo me ne sono autoprodotta una per brevissimo periodo su speaker e poi anche gli articoli che scrivevo perché ho scritto vari articoli sul tema delle fiamme che trovate ancora sulla pagina professionale che una volta sul mio blog fino a che non l'ho chiuso pandemia sì pandemia a seguito comunque di questo lavoro ho iniziato a notare dei temi comuni degli schemi se vogliamo chiamare comuni degli aspetti comuni che vergevano indipendentemente dalle situazioni tenendo conto che le situazioni di fiamme diverse è vero di percorso di fiamme a sé però ci sono comunque delle cose che ho notato che si ripetono una delle cose che ho notato che non è l'unica però è una delle cose che mi ha colpito di più e che da mio modesto parere il 99 o comunque una grossa parte delle persone che sono in una relazione di fiamme gemella che sono un percorso di fiamme gemella pardon che dicono che vorrebbero una relazione con la loro fiamma in realtà non la vogliono affatto silenzio gelo le balle di le balle di fiero nel film western avete presente col vento che fa saltare le balle di fiero tipo i film di Sergio Leone roba di questo tipo cioè ho notato questo apparentemente mi sembrava una cosa assurda inconcepibile perché dicevo ma come cavolo è ma come è possibile cioè nottate di pianto migliaia di chiamate messaggi su messaggi foto di chattate che mi hanno mandato decine centinaia dico migliaia tante persone di di chattate con la loro fiamma in cui ti facevano vedere cosa risponde cioè dopo tutto sto tripolare di azioni che le persone hanno fatto per poter stare con la loro fiamma alla fine non volevano stare con la fiamma perché è possibile c'è qualcosa che non capivo cioè non capivo in base a quale meccanismo però questa cosa notavo sistematica perché comunque le persone in determinati momenti sembravano o auto sabotarci o auto sabotarsi oppure avere dei comportamenti comunque erano opposti a quello che avrebbero dovuto fare per stare con la loro fronte parte ok tra l'altro finendo poi in situazioni che tutto rendevano possibile tranne che stare con la propria fronte parte a un certo punto quando mi sono reso conto quando mi sono accorto di questa cosa ho fatto una domanda molto maligna una domanda molto maligna è analita perché hai cancellato il messaggio hai detto che sei la ricorrente poi hai cancellato perché a un certo punto ho fatto una domanda e chiamavano maligna una persona gli ho detto sai che cosa sai che cosa penso perché quello è stato il primo momento in cui mi sono accorto di questo schema sai che cosa penso che tu dici di voler la tua fiamma ma secondo me in realtà se la tua fiamma decidesse di stare con te tu non ci vorresti stare realmente la persona si è fermata si è proprio bloccata rimasta qualche secondo in silenzio e mi ha detto sai una cosa devo ammettere che è vero in realtà non ci vorrei mai stare quando mi ha detto questa cosa ho detto ma guarda ma vuoi vedere che questa cosa si ripercorre cioè si ripete ricorre c'è una cosa ricorrente e da lì ho iniziato un po' a parlando con le persone a fare alcune domande qua là è venuto fuori più o meno sempre la stessa cosa che in realtà alla fine della fiera dissezionando scusate il termine alcune delle cose fatte con loro quindi portandone un attimo ad avere dei momenti di consapevolezza praticamente tutte le persone con cui ho parlato non volevano stare con la fiamma perché ecco il perché il perché ha una serie di motivazioni molto interessanti di due tipi anche se poi sono collegate una di tipo psicologico sono accorto come ho detto varie volte che una delle cose più ricorrenti non è un valido a sempre però una più ricorrente che le fiamme in realtà hanno l'autostima estremamente estremamente bassa 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 con tutto quello che comporta ok di fronte a questo quindi c'è un problema enorme per esempio del merito cioè non mi merito ci sono una serie diciamo di convinzioni limitanti che ci impediscono in qualche modo di stare con la nostra fiamma io ho parlato un pochino di queste convinzioni limitanti almeno alcune di esse in un video vecchissimo di anni fa che si intitola i 23 blocchi mi sembra che ci impediscono di stare con la nostra fiamma qualcuno dei miei dei miei diciamo spettatori più più assidui si ricorda il titolo esatto magari mi riesce anche a trovare il link al volo perché non adesso non voglio deconcentrarmi per trovarlo però insomma il video sui 23 blocchi che tra l'altro è uno dei video più popolari che ho fatto perché fa fare un lavoro molto in profondità tra l'altro se non l'avete visto vedetelo perché vi serve credetemi ok intanto mettete mi piace eh dicevo quindi mi sono accorto che c'è una serie ci sono una serie di convinzioni ad esempio non c'è il senso del merito cioè se io mi ritrovassi a stare con la mia fronteparte più meglio se la mia fronteparte volesse stare con me io non me lo sedo non me lo merito ok faccio un ulteriore passo indietro perché ho dimenticato un dettaglio dicevo la risposta a questa domanda sul perché le fiamme si comportano così diciamo la fiamma che rincorre tendenzialmente in realtà anche quella scappa è appunto una risposta a due livelli la prima a livello psicologico diciamo legato all'inconscio quindi a tutti quei programmi inconsci convinzioni e programmi che impediscono questo il secondo livello è quello appunto che ci interessa un po' di più quello animico barra energetico che tratteremo tra un po' ok detto questo dicevo alcune delle convinzioni è per esempio la mancanza di merito non mi merito di provare questo amore pazzesco con questa persona non me lo merito ok domandatevi vi meritate di stare con questa persona chi è in chat si sente di meritare di stare con la propria fronte parte e non ditemi sì non è scontato ascoltatevi veramente pure se vi venisse sì quel sì mi risuona in ogni cellula ogni parte di voi è completamente convinta al cento per cento del cento per cento del mille per mille che vi meritate di stare con quella persona non è una domanda banale vedo alcune risposte qualcuno dice io ho una bella persona come lui me la merito e come qualcuno dice di starci lì qualcuno non so rispondere qualcuno non ora qualcuno mi ha detto proprio io non ci voglio stare è vero eccetera 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 un altro tema terribile che è quello della paura di essere felici l'altra sera ho ascoltato riascoltato in realtà riascoltato una canzone che è fuori al buio fuori al buio mi sembra vediamo che adesso sto sto avendo dei dubbi ciclopici attenzione l'attimo che controllo perché ho dei dubbi esistenziali non da poco aspettate perché poi dopo mi viene il dubbio fuori al buio ok fuori al buio di Tiziano Ferro ok nel testo che devo dire mi ha colpito particolarmente anche se la canzone la conoscevo perché è proprio una canzone nuovissima però c'è un punto nel testo che è molto esemplificativo di questo non so se lo conoscete se non la conoscete ascoltatela magari vi do il link della canzone vediamo aspetta che lo ritrovo per ritornello della canzone è questo che fa paura tanta paura paura di star bene di scegliere e sbagliare ma ciò che mi fa star bene sei tu amore vabbè adesso più o meno non l'ho neanche cantata bene però il concetto è quello che è molto molto importante cioè la paura di stare bene la paura di essere felici ok è un tema che in qualche modo secondo me rincorre nelle fiamme perché perché fondamentalmente la paura di essere felici è una paura molto molto frequente nell'essere umano io per primo sono uno che di questa paura spesso ce l'ha avuta non è che l'ho risolta totalmente però mi ha colpito che in questa canzone è espressa in maniera molto poetica molto sintetica che va dritta proprio al cuore cioè la paura di trovarsi una situazione dove stai bene non c'è nessuno al mondo niente al mondo dove potresti star meglio che con la tua fiamma ok se hai la paura di star bene con la tua fiamma non ci riuscirai a stare mai perché perché si ritorna alla paura precedente e quella del merito io non mi merito di stare bene io non mi merito la felicità cioè la paura della felicità che è una delle paure più diffuse molti credono che la paura di fallire sia la paura di sbagliare la paura di fallire sia una delle paure più grosse dell'essere umano in realtà la paura una delle paure più grosse dell'essere umano è invece proprio quella di essere felice è una paura secondo me molto più diffusa della paura di sbagliare di fallire di non farcela o quello che è perché perché mentre a fallire a sbagliare e al giudizio sul fallire e lo sbagliare siamo tutti allenatissimi perché da una vita che ci sbaronnano i maroni parenti scuola società su questo quindi in qualche modo ci preparano all'abitudine di fallire ma ad essere felici ma che cavolo ce lo insegna purtroppo siamo tutti verginelli o verginelle cioè non siamo abituati a vivere in uno stato di felicità di bilanciamento di equilibrio di connessione con l'anima tale da dire io sono abituato a essere felice per cui nel momento in cui sono felice riesco a starci anzi ci sembra purtroppo come la sensazione di un vestito che magari qualcuno che ci conosce davvero tanto bene ci dice tieni mettiti questo vestito tu quel vestito non l'avresti mai preso in considerazione ti metti il vestito ti senti a disagio perché dici ma no cioè che è sta roba poi ti muovi muovi le spalle muovi il corpo cerchi di capire com'è a un certo punto qualcosa ti fa un clic dentro e dici sai che però in effetti sta cosa mi calza sta cosa mi sta bene addosso ma perché non me lo sentivo che mi stava bene addosso perché pure ho convinto che non fosse per me che non facesse per me perché perché non eri abituato magari a portare quel tipo di vestito che pure che ti fa star bene tu non non lo sentivi come parte del tuo star bene non lo concepivi proprio per cui nel momento in cui ti ci trovi la prima reazione che hai è diciamo sì di rifiuto di rifiuto guardate che non è una cosa così banale così scontata ok non siamo culturalmente allenati a star bene ad essere felici ad essere tranquilli a maggior ragione perché ci insegnano che la felicità solitamente è associata al successo delle cose materiali eccetera ora non vi farò il banalissimo discorso del dirvi che la felicità è un qualcosa che non viene dal bene materiali ma viene che ne so dalle piccole cose o bla 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 insomma per quello ci sono diciamo youtuber e altri che hanno parlato che ne so Francesco Sole non so che altro sono i dentali dei benedetti non mi mette tantissimi che ne hanno fatto che hanno parlato di queste cose ok per quanto riguarda me l'unico posto dove veramente puoi provare una felicità duratura è della tua anima questo è il mio pensiero se uno mi chiede qual è la tua religione la vera religione è quella di anima ok poiché la tua fiamma gemella è la tua anima chiaramente la tua fiamma gemella che non è l'involucro attenzione è l'unica cosa chiamiamo la cosa ma non è una cosa che può darti la felicità cioè la tua felicità è solo lì non è altrove ok chiaramente stare con la propria fiamma gemella visto che qualcuno mi ha scritto paura Aurora mi ha scritto paura di stare con se stessi è giusto giustissimo perché perché se la tua fiamma gemella sei tu e quindi tu sei la tua anima e la tua felicità è la tua anima è la tua fiamma ma sei tu vuol dire fondamentalmente imparare ad amare conoscere e stare con se stessi perché perché la felicità la tua felicità sei tu sei dentro di te non è fuori perché le circostanze esterne possono cambiare continuamente ma in qualsiasi circostanza esterna tu navighi appunto tu navighi quindi ci sarai sempre tu in mezzo a quest'equazione ok per cui quello che devi fare è prenderti cura appunto della cosa più preziosa che hai che è la conoscenza di te quanto più hai delle aree di te che non conosci quanto più la felicità ti è preclusa perché perché magari ci sono delle cose di te che non hai scoperto che non sai che non hai provato non ti sei messo la prova ok se ti conosci puoi scoprire cosa ti piace cosa non ti piace che sono cose importanti ma molte persone questa cosa non la fanno fanno di tutto per evitare di conoscere e stare con se stessi ok la narita poi ti rispondo un attimo datemi tempo intanto seguite quello che sto dicendo poi piano piano vedo di di vedere cioè di prestare occhio attenzione anche alle cose che dite non è che voglio essere scortese nell'ignorare quelli che scrivono in chat in diretta però un minimo di filo lo devo seguire se dognuno di voi se ne va per un singolo filo personale legato ai propri interessi dolore eccetera e non si arriva niente voi cercate di seguire me facciamo questo patto poi o dopo mi occupo di fare diciamo un po' un riassunto condensato delle varie cose che chiedete cercando di rispondere più o meno a quelli che riesco a rispondere perché non è che ho risposto a tutto sempre ok detto questo diciamo quindi è molto importante appunto superare questa paura di essere felici ma siccome la felicità la trovi con te stesso devi superare appunto la paura di stare con te stesso che appunto è legata è un'altra paura che fondamentalmente finché ce l'hai nel momento in cui tu stai con la tua fiamma scappi o scappa lei ma scappa perché in realtà scappi tu perché scappi da te che quando la tua fiamma si allontana da te è una parte di te che si allontana da te quindi tu ti stai allontanando da una parte di te ok per poter stare con la tua fiamma tu devi essere in grado di stare con te stesso di starci il più possibile ok se una parte di te ti fa schifo e io lo so qualcosa perché per esempio ultimamente proprio recentissimamente ma proprio recentissimamente vuol dire le ultime ore gli ultimi ore mesi no mesi no che stavano dicendo ore giorni eccetera un tema ricorrente nel senso che sto esplorando insieme anche alle persone con cui parlo di consulenza e non solo anche insomma persone che sono in percorso che conosco c'è il tema del disprezzo che è un tema molto forte perché comunque ci hanno insegnato appunto a disprezzarci ad odiarci a non amarci ok finché ci sono parti di te che disprezzi io per esempio col disprezzo di me ci lotto in continuazione perché se una persona mi dice magari che sono meraviglioso come dico sempre io mi sento splittato perché una parte di me non ci crede mai fino in fondo ok quello è il disprezzo ok poi cosa vuol dire disprezzo non dare a se stessi il proprio giusto prezzo inteso come valore perché prezzo cos'è il prezzo non è quanto costa per poterti comprare o per poterlo comprare il prezzo è semplicemente un indicatore una rappresentazione una scala che ti permette di dire ok per me questa parte di me ha questo valore al di sotto di quel valore io lo scendo ok perché perché se no prescindo da me stesso qualcosa dentro di me la mia anima la mia essenza chiamavola così piangerebbe se io scendesse al di sotto di quel prezzo la cosa terribile è che la maggior parte di noi spesso non ha neanche idea delle cose a cui dà valore non lo ha cioè non conosce proprio i valori ok per cui diciamo finché non impara a dare il giusto valore a se stesso ma per dare il giusto valore a te stesso devi conoscerti non scoprirà neanche quali parti di te non ti piacciono quali parti di te odi ok e allora quelle parti creeranno sempre una separazione fra te e te quindi fra te e la tua fiamma perché la tua fiamma sei tu ok ora questa cosa alcuni di voi dicono vabbè che me frega insomma visto che a me interessa sapere perché franco non torna con me se si decidesse a stare con me per cui che mi interessa di stare con me invece ti interessa perché perché per poter stare con franco prima di tutto devi fare un grande lavoro dentro ok e questo coinvolge anche le proprie convinzioni e idee su di sé ok bene e avendo esplorato alcune di queste convinzioni diciamo che queste sono sicuramente tre delle cose più grosse su cui lavorare quindi le riassumo uno anzi evitatevi perché non mi ricordo più la prima maledizione allora paura di essere felici sensazione di non meritarlo non riuscire a stare con se stessi ok mi sembra che erano queste tre già solo riuscire a esplorare questi tre temi integrarli quindi smettere di non riuscire a stare con se stessi smettere di aver paura di essere felici di aver paura di stare bene la prima qual'era che l'ho detta poco fa già me la sono dimenticata maledizione sto un po' fuso ultimamente paura di non meritarlo ok paura di non meritarlo sensazione di non meritare di non meritare di stare con questa persona già solo riuscire a risolvere queste tre cose farebbe fare secondo me un salto di qualità al 99,9% delle fiabbe ok per cui sento di meritarmelo riesco comunque a stare con me stesso senza disprezzarmi quindi superando il disprezzo e mi sono allenato a stare il più possibile felice ma per stare felice io devo stare allineato alla mia anima per il più tempo possibile e questo ti fa fare un salto in avanti ok perché questo disattiva gli autosabotaggi di cui parlo appunto nel video sui 23 blocchi principali del percorso delle fiamme gemelle poi magari se trovo il link lo metto qua sotto però ora perché cancellate un messaggio ragazzi per favore a meno che non fate degli errori grammaticali gravi non cancellate i messaggi non censuratevi non bloccatevi non trattenete le cose ok ok detto questo dicevamo adesso vediamo alla parte secondo me interessante cioè nel senso che anche questo che vi ho detto adesso è interessante però la parte che per me è più interesse che l'aspetto animico energetico ok ma infatti io non sono riuscito a leggere perché Aurora l'ha cancellato Barbara che ha scritto Aurora visto che Aurora si è censurata perché qualcuno diceva un messaggio bellissimo la seconda parte diceva la parte relativa all'aspetto energetico animico che ci spiega un po' perché noi se avesse la nostra fiamma decidesse di stare con noi non so se lo vorremmo realmente ok ma prima di dirvi questo prima di dirvi questo vi beccate come sempre in realtà so che molti di voi si collegano non tanto per il contenuto del video ma per lo spottone ma per lo spottone quindi vi beccate lo spottone degli abboramenti si è abborato o abborata no mannaggia a te che stai aspettando anche perché poi ti perdi dei contenuti bellissimi bellissimi chi è abborato se c'è qualche abborato può confermare ok abborarti aiuta a supportare il lavoro che faccio spesso con il mio canale non dico sempre però insomma quotidianamente con il mio canale cioè quotidianamente no però quotidianamente sui social e poi nel mio canale e aiuta a sostenere il mio lavoro di ricerca e divulgazione di contenuti utili per te per te che stai seguendo il costo dell'abboramento fa ridere 6,99 euro al mese una pizza ok puoi disiscriverti quanto ti pare non rischi nulla per cui che aspetti ti puoi fare un'idea dei contenuti abbonandoti così ti fai un'idea di che cosa c'è e se vuoi continuare a rimanere tra gli abborati abbonarti ti dà accesso a che cosa una diretta una diretta mensile di domande risposte in cui puoi avere delle risposte alle tue domande sulla situazione che hai con la tua fiamma ok cioè non solo però diciamo che io lancio una diretta domanda e risposte su le varie cose che faccio registe casci ciclosi cartomanzia numerologia altrimenti ho detto che sono numerologo cartomante però è anche una delle cose che faccio ok oltre a questo oltre quindi a subirmi ogni mese la mitragliate degli abbonati che mi bombardano le domande poi non è vero perché gli abbonati sono i più indisciplinati di tutti quelli che mi seguono perché durante le dirette tipo questa c'è un milione di domande durante le dirette tra abbonati dove gli abbonati pagano per fare le domande risposte non fanno la domanda io mi incacchio e dico ragà fate la domanda per favore eccetera mamma mia certo che mi volete proprio allenare sulla strada per la santità detto questo oltre diciamo alla diretta domanda e risposte c'è sempre un approfondimento mensile o un esercizio in diretta o comunque un qualcosa legato a un argomento di approfondimento su temi che magari non possiamo trattare sempre sul canale pubblico per una serie di motivi anche perché a volte parliamo a volte non sempre parliamo di tematiche un po' zezze ok tipo lo scambio di foto cioè vabbè detto così sembra un gruppo privato di scambisti no era per dire che a volte abbiamo toccato anche degli aspetti chiaramente che sono un po' controversi per parlare pubblicamente che gli aspetti legati anche diciamo all'intimità delle fiamme a tutti i livelli eh non solo quella quella sex ok chiaramente non c'è solo quello cioè troverete anche dei video proprio diciamo di metafisica per esempio c'è uno molto bello che secondo me è molto bello però insomma non è tra quelli che ho sentito più apprezzati non capisco perché che è sui 12 principi universali che stanno dietro a rimagnetizza quindi quali sono i 12 principi legge universali dell'anima perché è importante saperle ok e poi ci sono altri video per esempio un video su come risolvere alcuni dei problemi più grossi che sono due nel percorso di fiamma gemella ok per esempio quello del tempo che è uno dei due l'altro non ve lo dico perché se no è facile e poi altri video dove trattiamo ad esempio approfondiamo quali sono i livelli dei sette prigioni della paura dove trattiamo l'approfondimento le paure dove tratteremo anche le polarità giocando anche un po' con le polarità di cui parliamo cioè la polarità che rincorre e la polarità che insegue ok la polarità che scappa e la polarità che insegue quello che chiama runner e chaser però in realtà i termini che utilizzo io sono la polarità che spinge e la polarità che si ritira poi chi è rimagnetizza sa che c'è un altro termine ancora che però non rivediamo pubblicamente perché è specifico e caratterizzante del percorso di rimagnetizza che ho creato ok ogni mese comunque ci sono tanti video perché mese dopo mese escono video nuovi per gli abbonati più ci sono quelli vecchi comunque archiviati per adesso poi vedremo il futuro per cui più si abbona per pochi eurini anche se l'euro varia sempre meno se state seguendo la geopolitica quindi iniziate a preoccuparvi però per pochi eurini potete avere un sacco di materiale di approfondimento ok abbonarti vi permette di fare di più di produrre contenuti di più per il canale perché chiaramente se ho un numero sufficiente di abbonati posso dedicarmi a fare questa cosa che vedete fare qui su youtube a tempo pieno mentre invece non devo purtroppo necessariamente fare altro specie con l'inflazione a livelli mai visti negli ultimi decenni per cui in qualche modo dipende da voi un piccolo diciamo contributo per ognuno che mi segue se tentate ormai mi permetterebbe di stare un po' più tranquillo di fare qualcosa che credo mi serve anche a voi perché di quello che mi dite vi aiuta il mio lavoro per cui io sono contento di farlo a prescindere dagli abbonati però se mi sostenete meglio quindi mi permette di focalizzarmi sul mio lavoro di ricerca di contenuti e sulla loro esposizione chiaramente piuttosto che su altro puoi provare l'abbonamento per un mese ma magari anche qualche mese in più non farebbe male premendo sul tasto abbonati che troverai accanto dentro video in ogni video che faccio c'è un tasto abbonati e un tasto iscriviti previ sul tasto abbonati per abbonarti ok una cosa importante che ho scoperto di recente aiaia youtube anzi google perché youtube è di google per abbonarti devi essere devi inserire come email la stessa email che utilizzi nel tuo account youtube deve corrispondere a quella della carta di credito se è un email diversa youtube giustamente non riconosce che sei tu e non ti fa entrare devi usare la stessa mail ok perché tanto tutte le carte di credito adesso sono associato un email per cui devi avere la stessa email se non è la stessa male devi cambiarla ok troverai anche qui sotto in descrizione più tardi un link per iscrivervi per abbonarti al canale e in più nel mio canale c'è una sessione chiamata abbonamenti o abbonati o qualcosa del genere ok bene adesso proseguiamo con la seconda parte perché diciamo con gli aurini ah nel frattempo la regia mi ha mi ha mandato grazie regia dove è eccolo qua la regia mi ha mandato il link del video dei 23 blocchi sembra un collasse dai niente scusate è un problema tecnico copia e incolla quando serve non funzioni mai non so perché ho un karma col copia e incolla che è decennale eccolo qua questo link del video su 23 blocchi grazie regia e non vero ok allora adesso invece partiamo della partiamo parliamo della seconda parte del video dove parliamo invece della compone della diciamo della motivazione animica per il quale se noi avessimo fortunatamente diciamola miracolosamente direi anzi non fortunatamente ma miracolosamente la nostra fiamma si impazzisce decide di stare con noi insomma si convince di stare con noi noi non vorremmo stare con lei perché allora partiamo da un concetto molto importante ok normalmente perché noi rincorriamo noi diciamo si rincorre la fiamma perché si rincorre la fiamma e perché invece la nostra fronteparte di solito si allontano scappa il motivo per cui questo succede come sapete noi siamo prima di tutto degli esseri duali ok inserito in realtà duale quindi con due polarità ok no la paura di perdere si la paura di perderla c'è però la paura di perdere comunque entra nella parte psicologica qui invece andiamo a livello un pochino più profondo che però è comunque legato ovviamente ok allora dicevo siamo esseri duali inseriti in realtà duale cosa vuol dire siamo esseri duali inseriti in realtà duale vuol dire che la nostra anima si manifesta entra in questa realtà come ho spiegato più volte si scinde due polarità apparentemente si scinde due polarità maschile e femminile che manifestano come caratteristiche diciamo la propensione a spingere verso la fronteparte e allontanarsi dall'altra fronteparte ok quanto più una spinge l'altra si allontana ok perché perché le fiamme gemelle sono opposte e complementari con la nostra fiamma gemella non c'è l'effetto specchio come alcuni dicevano erroneamente anni fa ma c'è l'effetto specchio inverso quella cosa che ho spiegato e che alcuni ancora fa confusione cioè cosa vuol dire che se noi facciamo una cosa la nostra fiamma non fa la stessa identica cosa ma fa la cosa all'inverso attenzione che però anche questo ha creato una confusione in molte persone perché allora si sono convinte sentendo questo discorso che penso che qualsiasi cosa tu fai la fiamma fa la cosa opposta o deve fare la cosa opposta vuole la cosa opposta per esempio se ti piace che ne so la carota a lei piace la carota non piace no non è proprio così ma di questo le tratteremo in una successiva diretta tratterò anzi perché parlo altrua le tratterò in una successiva diretta che farò in futuro perché anche questa domanda mi è stata fatta recentemente per chiarimento mi sembra doveroso fare un video per spiegare perché effettivamente può creare confusione ok comunque le fiamme in che modo si relazionano le fiamme si relazionano fra di loro a causa di una dinamica energetica cosa vuol dire che anima manifestandosi loro attraverso due polarità nel piano fisico perché si manifesta così perché l'energia di anima quando è unita è talmente alta e pari a quello del creatore perché l'anima è un'emanazione non è del creatore ok siccome un'emanazione l'energia è talmente alta che nel piano fisico non riesce a starci ha necessità di ridurre temporaneamente la quantità di energia che è comunque altissima scindendo le due parti però in realtà il discorso è più complicato ma diciamo scindendo le due parti con polarità maschile e femminile in due corpi divisi sul piano fisico ok e di essere inserita in un piano duale nella materia ora è vero che noi abbiamo le polarità scisse ma questa scissione non c'è un solo livello ma vale dal macrocosmo nel microcosmo nel grande nel piccolo avete presente la le tavole smeraldine dove c'è quel principio che dice così in alto così in basso così nel macrocosmo così nel microcosmo che è famosissima bene sì ma manca un dettaglio manca il dettaglio delle polarità quindi cosa vuol dire c'è una polarità e un bilanciamento fra le polarità nel macrocosmo e nel microcosmo così in alto così in basso a tutti i livelli c'è sempre un bilanciamento ora questa cosa andrebbe studiata e ha delle implicazioni enormi perché funziona a tantissimi livelli medico chimico alimentare adesso non ci interessa perché non possiamo fare un trattato sull'argomento ok filosofico o filosoficus vabbè quello che è ok però è importante capire questo concetto cioè dentro di noi c'è una polarità prevalente che è quella che noi incarniamo e che esprimiamo con la fronte parte ok ma comunque noi abbiamo principalmente quella polarità ma non è che l'altra non c'è per niente c'è una parte di quella polarità quel tanto che basta comunque per creare attrazione con la polarità opposta ok e complementare non so se mi rendo l'idea ok per cui siamo comunque all'interno di noi già divisi quindi c'è una parte che spinge e una parte che si ritira già dentro di noi al di là e per forza perché se non è dentro di noi come può essere l'esterno manifestata attraverso la fronte parte che l'esterno manifesta sempre l'interno ok mi seguite fino a qui o vi siete persi ho detto qualcosa che non vi torna che vi è complicato eccetera eccetera fatemelo sapere ok quindi chiarito questo questo come si manifesta a livello pratico a livello pratico appunto c'è una persona se stai seguendo questo video la probabilità al 99% è che sia tu quella che stai spingendo spingendo diciamo inseguendo l'altra persona rincorrendo chiamalo come ti pare l'altra persona piuttosto che essere quella che scappa però a volte mi sei detto qualcuno di quelli che scappano ma è molto più raro ok allora solitamente diciamo quella persona che insegue è la polarità femminile ok che insegue di solito un maschino una polarità maschile che non vuol dire un maschio ma una polarità maschile perché ci sono anche che ne sono uomini con l'energia femminile che inseguono donne con la polarità maschile ok per chi mi conosce per esempio sa che una polarità parto con una polarità di base abbastanza femminile però ho imparato a bilanciare anche la parte maschile integrale ci ho avuto un po' ok però infatti fateci caso sono uno dei pochi che avevano l'insegnante con termini terribili le fiamme gemelle maschio perché non ce ne sono tantissimi la maggior parte sono donne come avete visto non maschi e chiaramente mi interesso di cose abbastanza spirituali o comunque legate ad aspetti tipicamente femminili quindi emozioni relazioni amore sentimenti anima spiritualità energia occultismo magia e bla 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 ah cavolaccio ho dimenticato grazie grazie per la miseria mi sono scordato in chat chi è presente metta uno scriva uno per indicare che è in diretta e due eseguete la registrazione per indicare che appunto sta eseguendo la registrazione mi serve a me per tenere una statistica di quelli che sono un po' più presenti non vincete però il prosciutto alla fine della raccolta punti e ve lo dico fate solo perché vi sto simpatico detto questo diciamo quindi abbiamo due polarità di cui si manifestano comunque nell'incontro con la fronte parte una di queste è prevalente solitamente la polarità femminile che insegue è una polarità maschile che scappa ok però abbiamo entrambe dentro ok ora la polarità che insegue che rincorre che in qualche modo spinge che vuole la relazione a tutti i costi che vuole stare con la fiamma che esprime diciamo il programma perché è un vero e proprio programma mentale che però è basato su anima che è solo tu esclusivamente tu esisti solo tu e nessuno nient'altro mentre invece la polarità che scappa solitamente dice tutto e tutti tranne te con te manco seccara la miseria ok questo è un po' l'approccio ora quello che succede è che la polarità che rincorre che insomma vuole stare con la fiamma aggressivamente quasi che se la mangerebbe fiamma se te pio te maggio ok a un certo punto come ho detto prima potrebbe fare la dolorosa scoperta di dire che nel momento in cui l'altro che continuamente scappa si nega non vuole stare con te sta con chiunque altro tranne che con te insomma ti ha fatto pedare l'anima a un certo punto magari gli piglia il matto come si dice gli piglia il matto e ti dice sai che io voglio stare io ti amo nel momento in cui succede quello apparentemente tutto bene cioè dice ok finalmente è rinsalito ha capito cosa siamo finalmente ha capito che siamo fiamme perché solitamente quella persona che rincorre scopre anche cosa sono le fiamme ok quindi scopre di essere fiamma quindi chiaramente dice ok finalmente la mia fiamma sa cosa siamo la mia fiamma ha capito la mia fiamma è consapevole ok per cui quello che uno si aspetterebbe che poi un po' è una delle più grossi e boiate che ho sentito parlare diciamo dei gruppi che parlano di fiamme gemelle dice che senso allora ve lo spiego in questo in questo modo allora perché se no questa cosa non si capisce la fiamma che rincorre perché rincorre rincorre perché è in una condizione di sbilanciamento non è bilanciata cioè non è centrata dentro di sé non è allineata la sua anima ok quindi è l'energia che la costringe a spingere a rincorrere la fiamma ok la tua fronte parte scappa da te si allontana da te perché anche sei sbilanciata perché l'energia per rispondere al fatto che tu spingi la porta allontanarsi a scappare perché siete comunque uno perché l'anima è una l'energia è unica con due polarità ma l'energia è una quindi se tu spingi l'altra persona si allontana è matematico più spingi più l'altra persona si allontana ok questo è il fenomeno dello specchio inverso ok se la fiamma di colpo dice sai che io voglio stare nella tua vita voglio stare con te quello che succede è che tu scapperesti perché perché tu inizialmente insegui la fiamma per paura perché hai l'energia della polarità della paura ce l'ha anche la fiamma ce l'avete tutte e due che mi porta entrambi a scappare perché chi insegue in realtà scappa chi scappa appunto scappa cosa vuol dire chi insegue rincorre qualcuno che inconsciamente sa che non si farà mai prendere questo modo continuando a rincorrere si assicura che non starà mai con quella persona perché potrà protrarre all'infinito lo schema ma è il ciclo della fuga detto con la U non con la I che qualcuno potrebbe capire male ok infatti da lì il famoso detto le tira più un carro di cioè le tira più un pelo di che vabbè capisce capisce ok per cui tu insegui l'altro si dà la fuga ma tu insegui perché il fatto che questa persona ti dà la certezza di scappare perché ti dà la certezza di scappare perché qui casca l'asido a livello cosciente tu non sai cosa prova l'altra fiamma e ti scoperca il cervello dicendo ti arrovelli dicendo ma perché scappa ma perché fa così ma a livello animico dentro di te per via dei vasi comunicanti sai sempre il vero motivo per cui la tua fiamma fa qualcosa e il motivo per cui la tua fiamma lo fa il motivo per cui scappa è perché cioè il motivo per cui tu lo insegui è perché hai la certezza matematica che finché continui a inseguire la fiamma scapperà per cui ti assicuri inconsciamente perché a livello cosciente lo sai ma dentro di te lo sai che continuando a inseguire non potrai mai stare con quella persona mai non potrai mai stare con quella persona affinché non viene risolta l'energia della polarità della paura e con tutte le paure amnesse che le esprimono che porta questa persona a scappare ma porta anche a te a scappare perché tu inseguendo in realtà scappi perché è come se aspettassi Godot presente aspettando Godot Godot è quello che ne compare mai dell'opera teatrale omonima che è anche un romanzo mi sembra però che non sia un'opera teatrale in realtà nella sua assenza la sua presenza è fortissima stessa cosa con la fiamma ossia la fiamma scappa tu insegui quello che non c'è per tutta la vita e il senso della tua vita diventa l'inseguimento non è più la relazione non è più stare con l'involucro ma l'inseguimento per il gusto di inseguire finché non togli le paure ok perché dico questo perché se la tua fiamma dal giorno alla notte ti dicessi voglio stare con te non è che l'energia della polarità della paura è sparita cioè non è che se ti dice voglio stare con te di colpo guarito paura è sparita no l'energia è ancora là non sparisce la giornata alla notte e appunto è qui che io noto che ho notato dopo anni che li seguo le cavolate che dicono nei gruppi di fiamme gemelle che non sono i miei gruppi di facebook intendo perché sono gruppi di facebook se non lo sapete dove parlano di fiamme gemelle dove ci sono scusate se lo dico perché non dovrei essere giudicante perché le persone spirituali dovrebbero essere giudicanti così si dicono sono dei grandissimi idioti grandissimi idioti che gestiscono questi gruppi ok gente invidiosa gente che si fa la guerra gente che recentemente ho letto di un becille che parla in maniera diretta indiretta a vari di me nel suo gruppo di cento gatti cento gatti perché non è in grado nella vita di far nulla ok sì ti saluto visto che so che in qualche modo tu o qui per te segui i miei video perché ti fanno rosicare l'anima ok ok hai come spot parlare male di me perché non riesci a far di meglio cioè gruppi di gestiti da idioti purtroppo dove ti raccontano un sacco di cacchiate senza capire me il mio lavoro nonostante ho fatto 14.000 video cioè bisogna essere proprio cretini per non capire il mio lavoro dopo che ho fatto 12 milioni di video dove ho parlato di tutto di argomenti di cui non parla quasi nessun altro sulle fiamme e ancora non capire il mio lavoro cioè dovete avere proprio dei limiti diventati grossi comunque insomma dei gruppi sento delle cose tra cui questa qui che sono assurde cioè ti dicono ok devi fare in modo di amare la tua fiamma ama la tua fiamma prima o poi la tua fiamma ti amerà perché la ami che poi non è sbagliato come principio di divassima fino a che insomma prima o poi ti dirà che ti ama capirà cosa siete starà con te ok e a quel punto sarete amore sarà amore non è proprio così perché appunto nel momento in cui la fiamma ti dice io voglio stare con te non è che le tue paure che erano quelle che portavano la fiamma a scappare perché le tue stesse paure anche se sparesse in modalità appunto inversa perché se tu insegui le scappa ma avete comunque tutti due paura paura di star bene paura di stare in sé tutte le cose ho detto prima quelle paure spariscono non sono sparite ok nei gruppi però cosa trovate trovate una marea di persone che piagne come dico io cioè fanno i piangistei nei gruppi che dicono ah se solo lui o lei stesse con me ah sarebbe tutto risolto starei benissimo la mia vita sarebbe risolta sul lavoro sarebbe risolta la mia famiglia sarebbe risolta no no ragazzi questa è la classica fantasia di la Disney non funziona così ok l'energia della polarità della paura scompare non perché la tua fiamma ti ha detto ah ho capito che siamo fiamme adesso visto che so che tu sei la mia fronte parte adesso sì che so che quello che siamo non ha limiti adesso stiamo insieme eh no l'energia ragazzi l'energia della polarità della paura il muro energetico che ti impedisce di stare con la tua fiamma sparisce perché si fa un lavoro interiore della madonna ma della madonna non una volta ogni giorno ogni giorno ogni giorno riprendendo una cosa che ho detto poco fa quei grandi imbecilli che mi dicono ah Jimmy ti dice di fare delle cose tu fai delle cose e stai con la fiamma e c'è bisogno di uno che ti dica di fare delle cose che te le fa lui per te e ti risolve io non risolvo proprio niente quella prima cosa che dico a tutti quelli che lavorano con me mi rivagnetizza è che io ti do degli strumenti ti do delle consapevolezze ti do delle miglia ma dovrai fare un lavoro della madonna tu ma non per farmi contento a me lo devi fare perché quel lavoro ti serve per conoscerti per amarti per stare bene tu da fatto di giorno affrontando tutto scoperchiando le tue paure più grosse cioè arrivando al punto arrivi anche a questo prima o poi di arrivare di fronte alla tua fronteparte e donarti a tal punto di consigliargli o consigliarne tutte le tue paure tutti i tuoi timori tutte le tue vulnerabilità sapendo che quella persona potrebbe da quel momento in poi ucciderti perché sai esattamente cosa potrai cosa fare per dirti che ne so quello che potresti sentirti dire o farti male o premere i tuoi tasti ok ma per il semplice fatto che tu hai dovuto riconoscere quelle paure affrontare quelle vulnerabilità metterti a nudo rischiare che il tuo cuore venga scalfito il tuo chakra del cuore venga ridotto in frantumi quindi di non essere più in condizioni di anata come lo chiamano gli indiani perché il chakra del cuore è chiamato anata quando in condizioni di non scalfito poi la condizione del cuore cristico avere la coscienza cristica attiva nel cuore ok quando tu hai il coraggio di smantellare tutto e donarti completamente non all'altro ma a te stesso perché la tua fiamma sei tu quindi quando tu ti guardi nel cuoricillo le tue paure che stanno qua che stanno qua che stanno dappertutto ok e le affronti ti stai guardando stai imparando a stare con te stesso stai imparando a dire nonostante ho queste paure nonostante questi difetti nonostante io mi sono disprezzato ho disprezzato tutta la vita ho abbassato stima ho fatto una marea di errori ho sbagliato una marea di relazioni ho lasciato sono stato lasciato chi più ne ha ognuno di noi c'ha le sue ok però quelle paure le hai iniziate a affrontare le hai iniziate a riconoscere le hai iniziate a vedere le hai iniziate a integrare cioè ti sei donato a te stesso che è il più grosso atto di amore che si può fare che non fa nessuno ragazzi questa roba non la fa nessuno nessuno allora inizi a togliere l'energia della pluralità della paura se non lo fai succede quello che ho visto spesso succedere nei gruppi che io lo dico sempre aspetto il vostro cadavere sul fiume visto che parlate di me male dei gruppi però io vedo che non è che fa portare grandi risultati ragazzi miei e che magari le persone la fiamma la fiamma gli ha detto mettiamoci insieme appunto stanno insieme per un po' e poi la coppia scoppia di nuovo perché l'energia della pluralità della paura se non la togli se non hai fatto questo lavoro della miseria della madonna sui te l'energia è ancora là il muro è ancora lì non è che è scomparso è solo temporaneamente invisibile è più sottile ma non è che non c'è si rimanifesta infatti cosa succede tanti dei gruppi di fiamma e gemmieri dicono mi sono riunito con la fronte parte e poi gli scoppia tutto in faccia e io rimango lì e dico che ti avevo detto anzi non glielo posso dire perché in molti di questi gruppi non ci sto più per fortuna vedendo poi chi li gestisce che è gente veramente invidiosa e malibbia ok e poi poi dico io queste cose in dei video le dico e poi mi dicono che sono uno stronzo che va contro la riduzione delle fiamme che io non voglio che le fiamme si uniscono e infatti l'ho dedicato alla mia vita dalla mattina alla sera è questo si vede quanto non voglio che le fiamme si uniscono ok se in realtà mio potesto parere sono loro quelli che dicono queste robe che non capiscono una mazza a mio parere cioè ragazzi l'energia della polarità della paura è un qualcosa di reale che è un effetto reale concreto del percorso che va bilanciato di continuo costantemente non si scappa non ci sono scorciatoie non c'è che ne so farsi fare la dividazione sulle fiamme gemelle che è una delle varie boiate che ho visto in giro o altre cose ogni tanto ho visto che la sua gente che vendeva oggetti su cui hanno fatto riti che se te lo compri la tua fiamma ritorna così ho visto di tutto no 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 non funziona sta roba ok cioè se tu insegui la fiamma ma non togli la polarità dell'energia della polarità della paura nel momento in cui la tua fiamma smette di scappare inizia a scappare tu per risposta ok oppure ti sembra ti dici che rimani ma ti ripartono gli autosabotaggi e dici no no io non me lo merito no non è possibile che vuole stare con me no mi sta mentendo no mi sta in realtà dice che sta con me ma mi tradisce di nascosto e quindi vai alla ricerca di prove del tradimento ok cioè di base tu proprio te ne scapperesti perché non hai bilanciato l'energia cioè il lavoro di bilanciamento non è facile non è una cosa che fai così cioè c'è un lavoro dietro mostruoso ci sono dei passi precisi ci sono delle cose che bisogna sapere bisogna fare in un certo ordine con una certa consapevolezza è un lavoro molto duro allora qualcuno mi sta chiedendo in chat comunque adesso rispondo alle domande se non si risolvono queste cose non potremmo mai riunirci a riunire ti puoi riunire ma il punto non è riunirsi il punto è rimanere uniti rimanere armonici e quella è la cosa più difficile di tutte ragazzi sono persone che cercano anche se sono riconosciuti una decina di anni fa cioè sono dieci anni che in qualche modo cercano di riunirsi ma poi magari non tengono l'energia perché l'energia è troppo alta ecco tra parentesi poi viene in mente un ragazzo Dario che non so neanche se sei Dario ci sei? magari sei un chat non l'ho visto però se ci sei batti un colpo visto che sono 60 persone che seguono stasera un bel numero 65 64 quello che è mettete mi piace ragazzi c'è un ragazzo che mi ha chiesto recentemente appunto perché la mia fiamma mi mette in pausa e come posso fare per uscire dalla pausa poi gli risponderò al commento perché gli ho risposto semplicemente troppa energia cioè l'energia è troppo alta ok che vuol dire che l'energia è troppo alta perché troppa energia ok se si cerca di riunirsi ma si spinge troppo proprio perché come ho detto c'è la parte c'è la parte di noi concessionata che pensa fiamma 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 energia sale troppo per una serie di motivi che ho spiegato decine di volte in altri video ok non me le fate ripete perché sennò veramente diventa sempre una ripetizione delle stesse cose invece ogni volta anche qui ho cercato di darvi qualche cosina qualche spuntino in più qualche osservazione in più ulteriore per approfondire ok se l'energia è troppo alta non ci si riesce a riunire perché non si riesce a mantenere quello stato di armonia di bilanciamento che si ha quando si è allineata la propria anima e quindi con la propria fiamma perché sennò a quel punto ti avvengono fuori rabbie paure traumi cose portate da altre relazioni programmi famiglie tutta una serie di robe lunghissime che ho spiegato e rimagnetizza che ci lavoriamo approfonditamente in una parte del percorso verso metà fine del percorso perché se non ci si assicura di levare quella roba poi non si riesce a rimanere riuniti perché appunto come io sono persone che c'è un decennio che cercano di riunirsi o anche più anche più di un decennio però poi l'energia saliva troppo viene gestita male le cose e non ci si riesce a stare insieme non ci si riesce a armonizzare ok è importante invece far questo cioè è importante iniziare a percepire ad esempio se l'energia sale troppo se stai spingendo troppo quindi è il caso di fermarti e cosa ti porta a spingere che paure ci sono dietro da dove vengono ok cioè è inutile riunirsi con la fiamma per starci due giorni per poi soffrire perché per un anno due anni tre anni ti blocca non vi vedete capisci a una vita a quel punto è meglio un attimino fermarsi rallentare un attimo lavorare sulle proprie robe e poi magari si riuscirà a gestire un livello di energia perché quando si sta con la fiamma il livello di energia è già altissimo in maniera tale che poi si riesce ad assicurarsi di rimanere uniti per certi versi guardate stare con la fiamma è un po' come diventare ricchi non è difficile diventare ricchi il problema è rimanerci è un po' come quelli che vincono alla lotteria vincono miliardi due anni dopo sono di nuovo poveri come è possibile perché non sono abituati un po' come con la felicità a rimanere ricchi perché nessuno gli era insegnato perché non sanno come si fa perché la loro la loro normalità è essere poveri e hanno convinzione da poveri abitudini da poveri mentalità da povero brava perché la fiamma ti arricchisce esatto per cui è un po' come diventare ricchi anzi forse la vera ricchezza è avere la fiamma in maniera cioè relazionarti in maniera armonica con la tua fiamma perché la tua fiamma è il massimo arricchimento perché ti arricchisce di te stesso della conoscenza profonda di te ok per cui sì è come diventare ricchi anzi forse l'unica vera ricchezza l'unica vero valore inteso con la v no maiuscola gigante umidescente con i fuochi d'artificio valore nella tua vita è quello perché tanto ragazzi il vero valore della vita sta nelle relazioni e non c'è una relazione più importante che quella con se stessi perché se tu non hai una buona relazione con te stesso con la tua anima e con la tua fiamma gemella che sono la stessa cosa che sono anche il divino non hai nulla nella vita non hai nulla perché puoi essere ricchissimo e fare una vita te cacchio ecco non mi fate dire parolacce ok non so se rendo l'idea per cui se vuoi diventare ricco come stare con la tua fiamma devi imparare a rimanere ricco e a rimanere con la tua fiamma perché se non te ne fai niente della vittoria di Pirro che la tua fiamma ti dice sì ho deciso di stare con te ma poi ti partono gli autosabotaggi e scappi ed esci dalla relazione o fai di tutto per creare le condizioni per far fallire il rapporto che poi quello che succede è che se tu spingi e la fiamma smette di spingere e decida di stare con te e si avvicina a te come si avvicina a te tu inizi a scappare inizi a scappare inizi a scappare e si ripete lo stesso schema diventi tu tra virgolette quello che si ritira qualcuno lo chiamerà sbagliando e la fiamma diventa il tuo inseguitore e ti insegue perché perché ha la certezza che dato che è collegato a te a livello animico tu non ti fermerai mai e in questo modo l'energia della polarità della paura si assicura di prendersi una dose della sua droga preferita che è l'ossessione verso l'involucro della fronte parte perché? perché come vi ho detto sempre tutta questa cosa nasce da un errore percettivo cioè la tua polarità della paura si è convinta che la felicità è identificata con l'involucro fisico della fiamma la felicità non è nell'involucro fisico della fiamma il desiderio di base quello che noi cerchiamo di acquisire è l'anima è la riunione della nostra anima è il motivo per cui facciamo tutto nella vita tutto che ne siamo consapevoli ne siamo consapevoli noi cerchiamo di essere integri il principio di integrità è il principio più importante di tutti perché se sei integro sei libero perché non hai bisogno di qualcosa fuori da te perché tutto è in te sei in tutto ok sì Barbara non posso usare non posso dire parolacce ok bene spero che questi concetti vi siano entrati nella capoccia perché se non lo capite nemmeno così e continuate a seguire quei gruppi di 4-20 gatti che hanno 100 iscritti 180-160 e se la suonano se la cantano fra i tre gatti non riuscirete mai secondo me a capire cosa è veramente utile per riunirsi ora vediamo un po' velocemente le domande qualcuno mi dice che mi sto superando col video prima ancora di farlo grazie tevi ti dice ormai sei una certezza dirette con tevi importante bene sì dipende tutto da noi come è importante il gioco di anime dopo che lei ci ha dato le dritte ok andiamo avanti vabbè domanda di battle wolf perché domanda è ammettiamo che la fiamma sia la metà di una mela se finisce nella sangria cosa bisogna fare ti bevi la sangria a battle wolf che domande così almeno sta in pure un po' delle grotto allora vediamo un po' qualche domanda vera invece di queste pugliate che scrivete ok qualcuno dice non voglio la mia fiamma della mia vita vabbè andiamo avanti vediamo se c'è qualche domanda intanto grazie a chi consiglia i miei gruppi le mie cose per lui non è così dopo l'incontro si mette con un'altra marilus mariluiz ma se l'ho appena detto che la tua fiamma gemella se tu sei quella che spinge ha come programma tutto e tutti tranne te l'ho detto poco fa allora ma qual è il messaggio che hai cancellato mica l'hai scritto allora Barbara dice vorrei solo che non prendesse decisioni affrettate ma ponderate il mio tal è che lui prima di avermi incontrata sosteneva di avere una splendida famiglia ma sento che non è più così ok si sosteneva sosteneva di avere una splendida famiglia sosteneva di avere una splendida famiglia fino a che non incontra la propria fronteparte poi scopre che la vera famiglia è con la fronteparte perché c'è qualcuno che ti è più familiare della tua fiamma che sei tu è chiaro che chiaramente la vita che tu fai prima di incontrarti con la fronteparte che c'è il riconoscimento alimico ti sembra bella e perfetta non ti sembra di aver bisogno di qualcosa ma poi di quel qualcosa ne avrai bisogno ok cioè che cosa vuol dire che nel momento in cui conti la tua fiamma e la tua fronteparte ti accorgi che quello che ti sembrava che ti bastasse non ti basta più come la scarpa che non è più della tua misura la vita ti sta stretta perché perché nel momento in cui nella tua equazione di vita materiale entra l'anima l'anima ti allarga la prospettiva enormemente perché ti fa uscire diciamo dallo stream dal flusso del tempo e dello spazio ti par poco ok ok vabbè per adesso non vedo domande intanto continuo a cercare dopo un evento personale ho smesso di cercare la fiamma praticamente non ci voglio avere a che fare ok non so cos'è per cui io merito di stare con me stesso bene l'arcano mi piace una frase io merito di stare con me stesso sai che questa frase mi piace talmente tanto che me la voglio appuntare è bella molto bella grazie grazie me la appunto io merito di stare con me stesso che di solito sono io che mi devo appuntare le penne le frasi interessanti che mi vengono mentre parlo nelle dirette però ogni tanto anche voi giustamente date il vostro contenuto un basetto con 4.000 penne non ne scrivesi una maledizione porca miseria se io non c'è una penna che scrive ah ah questa sì io merito di stare con me stesso di stare con me stesso con me stesso scusate ne approfitto due secondi ok andiamo avanti domande c'è qualcos'altro ma oggi ho avuto una vita poco felice ho ricordato come si fa come si sta solo nei momenti di pace con lui eh anche qui attenzione che da lì la porta della dipendenza è alta ricordati che nessuno incluso la nostra fronteparte ci fa stare parte tutto da noi la nostra fronteparte ce lo fa ricordare ci fa ricordare quello che c'è già dentro di noi Giovanacrino dice l'anima ci parla con gli eventi quando sei fuoristata lei trova il modo di rimetterti gareggiata assolutamente sì ma in realtà l'anima ti dà sempre delle indicazioni siamo noi che diventiamo ciechi e sordi ma l'anima ci parla sempre fin da l'infanzia andare lì la mia paura è quella di non conoscere perché scappando sempre non sono riuscito a capire come sia davvero se qualcuno mi dice che sono meraviglioso io rispondo che lo so modesta barbara io ho già da fare domande con una certa urgenza ma vediamo quali sono inizio già a tremare non vorrei stare con la fiamma prego ripinga rabbia ma nel lungo periodo ma nel lungo periodo non si sta sulla fiamma fino a che non si bilancia l'energia lì ce l'ho appena spiegato se non bilanciate l'energia della polarità della favore è difficile stare diciamo da contatto con la fiamma perché? perché l'energia è talmente forte che ti impedisce di starci ok? a me pare che lui stia spingendo più di me in questo momento dice il barbara ma mi viene di allontanarti perché? perché non ti viene di allontanarti? cara barbara è molto semplice perché comunque tu sei una di quelle che seguo più assolutamente i miei video eccetera per cui video dopo video cioè forse non te ne rendi conto ma iniziate a fare un lavoro di bilanciamento molto alto ok? buonasera David più che ti mangio bevo a un vinello fenomenale uno fisso tra un anno non sto capendo David che stai dicendo x pareggio ah è uno x pareggio vabbè ok io non sto con la mia fama perché mi è trattato male credo di meritare il più se vuole stare con me devo mostrarvi tanto rispetto c'è un po' di rabbia nei confronti della fronte parte Ginevra non si finisce più non conosco non conosco questi gruppi smantellare smantellare tutto e ricominciare da zero dicendo a Teresa è un po' a me sembrano infinite ti riferisci alla paura Barbara? sì che lavora sul bilanciamento delle paure lo capisce che non ci sono scorciatoi esatto Pink Panther tra l'altro bellissimo nome Matera Rosa è bellissimo come nome anche se a me faceva in mente più Pink Panther la Pantera Rosa e se cominci a rifiutare la fiamma per cercare di amarti bella domanda curo no perché se la fiamma sei tu è come se tu rifiutassi te stesso infatti il tuo problema è che come sempre ti ho detto ormai da un po' di tempo non è che ti ami tanto te Veronica ciao Veronica ciao benvenuta Jimmy ma quando arriva la seconda fase di separazione perché si stava bilanciando male? no non è allora non è perché si sta bilanciando male allora ragazzi chiariamo una cosa vivete la separazione come una punizione perché io lo so non vivete come una punizione tipo ho sbagliato qualcosa la fiamma cattiva mi pulisce no ragazzi la separazione non è una punizione come ho detto più volte se la tua fiamma in questo momento che ne so tipo comunque non vuole stare con te quindi si allontana da te è la cosa migliore che ti potrebbe succedere perché evidentemente leggi è un po' troppo altuccia magari avete spinto un po' troppo avete fatto tra virgolette degli errori anche se poi non ci sono errori perché comunque tutto è perfetto così com'è ok però se le cose stanno così prima cosa accettatelo se c'è una seconda separazione accettatelo perché è un momento in cui potete un attimo fermarvi meditare ascoltarvi riflettere su quanto accaduto senza però giudicarvi massacrarvi imparare a stare un po' di più con voi stessi bilanciare l'energia e la prossima volta si riparte abbiate fiducia che la fiamma non è che ti che ti sta punendo ora stavi bilanciando male non è che stai bilanciando male se c'è un'altra seconda fase di separazione una terza una quinta quello che è con ogni riavvicinamento che ci sarà successivo emergeranno delle ulteriori cose da bilanciare piano piano noterai che le separazioni normalmente dovrebbero ridursi di quantità di intensità di durata normalmente ok è raro che il contagio è raro che magari le separazioni diventano sempre più lunghe possono a volte allungarsi se tu hai veramente una ferita molto grossa per esempio una ferita da abbandono da rifiuto ma ce l'hai proprio grossa grossa e allora in questo modo ti aiuta ad elaborarla molto di più ok ma normalmente quello che succede è che le separazioni diventano più brevi ok vediamo se c'è altro perché nel frattempo stiamo rispondendo ok se c'è un'altra domanda capito Veronica non è che hai sbagliato un coro di riavvicinamento successivo perché tu mi dirai ma non si riavvicina e chi l'ha detto nella seconda fase vuol dire che c'è già stata una di allontanamento e tu dalla prima fase dell'antanamento già temevi che non sarebbe che non ci sarebbe stato riavvicinamento invece c'è stato impara a aver vero paura quando c'è la separazione le paure aumentano probabilmente ma aumentano perché così vengono fuori le stadi ci puoi lavorare prendila come una benedizione dicendo sì ok wow altre paure che escono fuori venite che vi bilancio ok Sabrina sto leggendo il tuo commento smetti di accusare la fiamma di qualcosa inutile accusare la fronte parte perché accusi una parte di te è un errore al cui ogni tanto ricaderemo anch'io una levetta su questo sarebbe splendida su questo cosa non ho capito la mia fiamma talisce il partner con me ma non mi bacia più per sensi di colpo mi chiedo se non lo desidera più ma allora il bacio solitamente è un impegno più più una richiesta di matrimonio cioè bacio è una cosa che normalmente ci hanno programmato dei film a considerare come diciamo il suggellamento dell'amore cioè se ci fate il caso in tutti i film romantici una coppia sta insieme nel momento in cui si bacia per cui nel nostro inconscio collettivo neanche italiano ma in generale di esseri umani il bacio è la vera promessa di stare in coppia il resto no cioè fare tutto il resto sesso altro non è una promessa ma nel nostro cervello il bacio sì per cui può succedere che la nostra fronte parte sta con noi non ci bacia perché in questo modo sente di non tradire la moglie o il marito ok o il fidanzato o la fidanzata è quello che è ok Gilevra hai una voglia di conoscere le tue paure mi sembra che le stai conoscendo ampiamente Lalla sorride mazza che bel nome buonasera Lalla non ti ho mai vista ok io sì subito anche sarebbe una cosa pazzesca sì tutti tutti dicono sì subito fino a che poi non ci stanno veramente stranamente qualcosa non quadra ok cioè non è proprio così lui mi ha detto vorrei che tu non avessi più paure ma lui ha una paura ha una paura folle di me non riesce a vedermi è terrorizzato da ciò che prova ok Lalla ripeto quello che ripeto da un po' non è che lui ha terrorizzato da te quante volte anche recentemente una persona mi ha detto ma lui ha una paura ottuta non posso dire il resto della parola di me del nostro rapporto no tu hai una paura del vostro rapporto o lui o lei tu e siccome tu hai una paura del rapporto hai una paura dell'impegno hai una paura diciamo ripercorri lo schema universale di cui ho parlato recentemente forse non ne ho parlato comunque fondamentalmente la paura di star bene citando Tiziano è un fuori buio ma non è solo quello però di base di base quello chiaramente tu non hai paura la fronte parte ma magia magia ne ha paura e scappa da te ma pure tu scappi non è lui scappa e tu no cioè non è che tu sei quello spirituale o quella spirituale quella figa quel figo bravo quello bravo quella brava e la fronte parte un imbecille che scappa e non capisce niente e no cioè dovete calare l'ego spirituale non siete bravi non siete perfetti non siete santi non siete eletti perché domine Dio non è che se siete fiamme siete meglio delle altre persone toglietevi questa idea caccia che vi hanno dato dei gruppi di fiamme gemelle che ho visto in giro che sono degli imbasati religiosi pazzi qui sono pazzi ok non siete meglio delle altre persone soprattutto se state facendo un percorso spirituale ok verrebbe da citare una frase di Fight Club che è un po' con carotta non ve lo cito però vedete Fight Club quando ti dice quando dice la parte non sei un fiocco di neve eccetera insomma se avete visto il film capite a che mi riferisco per cui sei tu che scappi è dura da accettare perché scappi perché hai l'energia della polarità della paura che è quella che non ti fa riunire con la fiamma e che non ti fa morire la fiamma quando potresti avercela ok spero di aver chiarito perché io sto sempre a ripetere le stesse cose non si sa Francesca buonasera Francesca grazie insomma sono contento che hai trovato me una canzone di Frank Ose a Pink Manter ascoltala ok me l'ascolterò ve lo segno aspettate ve lo segno perché non la conosco siamo avanti se ci sono altre domande siamo comunque quasi alla fine il problema è che se non ti vuole sentire più sarebbe inutile insistere se non ti vuole sentire più sarebbe inutile insistere ma non credere perché tante volte le fronte parti dicono non ti vogliono sentire più e la gente insiste lo stesso perché non è cioè c'è gente che se ne frega di questo poi c'è un pelato che parla di fiamme e di incantesi sessuali che avresti dovuto riprezzare non ho mai guardato ma il pelato non so perché ma nei video viene citato spesso chissà perché vabbè no pelato non è un insulto è una constatazione difficile non identificare con le paure consigli per non identificarti con le paure ricordati che tu hai delle paure in parte sei le tue paure ma non sei solo paura in realtà la tua condizione normale è quella di amore devi imparare a vedere l'amore dentro di te per vedere l'amore dentro di te devi imparare ad amarti e per farlo ti devi amare appunto non è che sono scorciatori stai leggendo diversamente lo so Veronica lo so però te lo ricordo perché male non ti fa buonasera buonasera Arianna una vita piena di relazioni la vera ricchezza qualcosina ne ho parlato nei video per gli abbonati però se non ti sei abbonato curo perché ti sei cancellato ti saluti quando ti vorrai riemponare lo troverai ciao Eliana ok mi ha ammalato mi ha ammalato creando l'evento ti ha ammalato cioè ti ha fatto ammalare la fiamma ma penso l'interesse per lui sto guarendo ammaliato o ammalato forse volevi dire ammaliato oh va beh Dania dice se tanto mi da tanto siamo a due anni di separazione quanto è grande la mia ferita del pandoro Dania te ne è abbastanza secondo la Cassazione un insulto dire pelato oh signore vabbè allora vediamo da oggi non lo chiameremo più il pelato lo chiameremo l'uomo che ha problemi con la tricomedit che era la tricomedit quella che faceva i trapianti giusto adesso il dubbio esistenziale regia è la tricomedit ti risulta vabbè la regia non risponde no scherzo vabbè battute a parte comunque insomma spero vi sia chiaro il discorso quindi cosa il mio punto di vista sul perché se la fiamma gemella volesse ti dicesse di stare con te magari tu non ci vorresti stare ok lo scapperesti circa chiaro chiaramente per fare tutte le cose che vi ho detto quindi affrontare le paure sapere cosa fare eccetera eccetera non è una cosa facile fatta da soli perché perché siamo purtroppo soggetti a automatismi che molte di queste paure sono in coce ci sono delle convinzioni dei programmi dietro della roba grossa ok della roba molto molto grossa il mio consiglio se veramente hai bisogno di una mano e vuoi un sostegno un aiuto da parte di qualcuno che comunque ha distaccato dalla situazione ha degli strumenti ti può aiutare ha esperienza ti sa indicare i passi da compiere nel modo di farli e ti segui costantemente con un supporto continuo il mio consiglio come sempre come troverai in tutti i video è quello di iscriverti al mio percorso rimagnetizza la tua firma gemella della tua vita col percorso che ho creato per aiutare e sostenere le fiamme a fare un percorso più agevole possibile per avere una riunione anche sul piano fisico armoniosa con l'involucro della fronteparte anche se l'involucro non è la fronteparte perché non è l'anima l'involucro è solo il contenitore però è possibile perché io non sono contro la riunione sul piano fisico assolutamente dico solo che non è lo scopo o la cosa più rilevante del percorso ok però è una cosa assolutamente secondo me possibile basta sapere come fare ok un po' come puoi smettere di fumare se sai come farlo il famoso libro di Alancar no? Alancar sì Alancar detto questo se vuoi sapere come fare se vuoi avere questi passi questi strumenti che ti permetteranno di agevolare di semplificare di smettere di fare questa benedetta rincorsa e soprattutto non ti vuoi perdere a seguire le boiate che dicono pseudo auguri auguretti che sono nati l'altro ieri dicono di tutto e di più sulle fiamme gemelle contestando qualsiasi cosa senza avere la minima esperienza perché io invece ho sei anni di lavoro vero con persone vere dalla mattina alla sera fino a non dormirci la notte e chi mi conosce lo sa perché ho risposto anche a tardanotte a tutti quasi quelli che me l'ho contato tutti no però è successo ok per cui parlo per esperienze per risultati portati perché comunque ho testimonianze o foto o una serie di cose ok mentre invece gli altri chiacchierano e basta ok e parlano male tra l'altro mio consiglio come sempre è quello di iscriverti al percorso di magnetizzare la tua fiamma gemella che è il percorso che ho creato per tutti quelli che sono in un percorso di fiamma ok che ti dà gli strumenti gli esercizi perché ci sono anche una parte pratica con gli esercizi insomma ti dà una vera e propria mappa un gps che ti fa capire cosa devi fare a che punto sei della tua relazione con la tua fiamma gemella e cosa devi fare per portarla a livello successivo ok fino ad arrivare finalmente a diciamo completare il tuo processo di ascensione in riunione con la tua fiamma che è anche la tua anima che sei te stesso ok e potresti anche avere un rapporto ambiglioso con l'imbocro però non è la cosa principale non è la più importante che prima di tutto un percorso che è stato fatto sul piano animico per conoscersi a Mars a livello profondo come anime sul pianeta Terra e questo ci porterà poi a creare realmente il paradiso in Terra perché è possibile ragazzi chi lo vive lo sa ok nonostante guerra è quello che sta succedendo che è orribile ok detto questo se volete rimanere in contatto con me ah ecco dicevo se volete iscrivervi di Magnetizzo dovete mandarvi una mail è anche il modo di rimanere in contatto con me mi scrivete una mail al mio indirizzo di posta elettronica gbfascina chiocciola gmail.com g di Ventus i di Imola m di Milano m di Milano qui sono due m i di Imola fascina chiocciola gmail.com ma attenzione è Jimmy con la I finale non con la Y perché tanti di voi mi scrivono in mail mettendo la Y sbagliano il mio indirizzo e in mail non mi arriva non ho niente idea di quante ce ne sono quindi scrivetelo giusto mi scrivete una mail dicendo caro Jimmy ho visto i video mi sono piaciuti quello che è vorrei avere maggiore informazione sul percorso di Magnetizzo a quel punto io vi vado delle domande che servono semplicemente a capire chi siete è normale che vi vado delle domande devo sapere chi siete che situazione avete se siete veramente in un percorso di fiamma oppure no devo fare una scrematura perché mi scrivono un sacco di persone non è possibile tutti sono uno per cui posso seguire sono alcune persone è normale che mi chieda delle informazioni per capire di che stiamo a parlare ok detto questo quindi mi scrivete un'email e io poi deciderò se da una volta letto la vostra email e le risposte che date se contattarmi al telefono oppure no sono alcuni saranno contattati e poi vi presenterò il percorso vi spiegherò come funziona la rimagnetizia poi se volete aderire aderite se non volete aderire amici come prima ciao potete seguire i miei video se vi va se no seguite altri e poi ve la vedete voi ok questo è fondamentalmente quello che posso fare oltre a questo se non vi interessa o non potete seguire un percorso più strutturato come rimagnetizia che ha una certa durata a un certo costo a un certo impegno richiede insomma un impegno serio potete anche chiedervi a volte delle consulenze da fare quando volete voi in privato per la vostra specifica situazione con la fiabba oltre a questo offro anche altre cose che faccio che sono letture di carte consulenze di freddy pack lettura dei registi akashici diplosi diciamo reiki le sessioni di matix energetics le sessioni di bass e tante altre cose faccio tante cose sessioni di coaching ok perché faccio anche quello sono tanta roba ok quello che volete che vi può interessare vi iscrivete e ne parliamo ok se volete rimanere in contatto con me vi ricordo che potete seguirmi sul mio profilo in facebook che è Jimmy Fascina sulla mia pagina professionale Jimmy Fascina epnologo sul mio gruppo che ho nominato prima l'iplosi regressiva il mistero delle fiamme gemelle che è un gruppo di supporto per fiamme gemelle assolutamente a disposizione di tutti questo gruppo e dove non trovate le boiate che trovate in altri gruppi per fortuna e anche certi soggetti perché sono stati cacciati proprio a cavalcioni nel sedere e non più che altro perché avesse l'idea opinione delle mie ma perché sono persone che da me non hanno niente da portare se non cattiveria o parlare male detto questo mi trovate anche su instagram come Fascina Jimmy anche se ultimamente non sto riaggiornando quindi vorrei ogni tanto iscriverci qualcosina e questi sono i modi per rimanere in contatto con me ok vi ricordo ulteriormente di nuovo di mettere mi piace di continuare a fare domande qui sotto nel video commentando fate domande ragazzi fate domande richiedetemi video chiedetemi temi da trattare suggeritemi perché le vostre domande i vostri suggerimenti le vostre richieste potrebbero diventare le vostre curiosità potrebbero diventare il soggetto lo spunto per un prossimo video un po' come questo che infatti è nato per una domanda che mi ha fatto M che ringrazio tantissimo grazie perché la tua domanda è stata preziosa quindi continuate a fare domande commentate eccetera eccetera il video anche per sapere se siete d'accordo se non siete d'accordo con quello che ho detto commentate e fatelo sapere mettete mi piace al video condividete questo video con i vostri amici ed amiche perché comunque le tematiche che ho trattato al di là di un percorso di fiamma secondo me sono interessanti perché comunque abbiamo trattato di tematiche che fanno parte un po' della vita che è la paura di essere felici eccetera eccetera quindi condividete questo video con i vostri amici che magari conosceranno il mio lavoro fate conoscere il mio lavoro perché penso che può essere utile e interessante a tante persone seguitemi nei gruppi abbonatevi al canale se potete che è un modo di supportarvi e di ringraziarvi iscrivetevi al canale quello gratis pigiando sul tasto iscriviti e pigiate sulla campanella per avere appunto una notte per ricevere una notifica da youtube quando escono un video noi ci vediamo al prossimo video che uscirà non so quando ma proprio poi uscirà intanto vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento di settimana e una buona notte a tutti e ciao da Jimmy Fascina diplomologo coach professionista esperto in relazioni in particolare nel mondo delle fiamme giovelle relazioni di fiamme giovella coach diciamo preparatore mentale per sportivi e coach di artiste e performer e sono anche un operatorista che utilizza varie tecniche diciamo di preparazione di pulizia e purificazione energetica tra cui i reiki i matix energetics i barzi di access consciousness i fiori di pack la lettura del regista cascici poi sono anche un numerologo un cartomazzo faccio tante cose e sono comunque un'arima in costante evoluzione sempre la domanda del finale vediamo la domanda del finale di cristal una domanda che è quella che le nostre molteplici fiamme se si rincontrasse rincontrasse potrebbero in un'altra le stesse emozioni che proviamo noi per loro risposta non lo so è probabile ma non lo so secondo me magari potrebbero provare più che altro una forte sensazione di amicizia però non lo so ti dico perché non è una cosa di cui c'è una grande casistica riguardo conosco veramente pochissime persone che hanno avuto questo avvenimento questa possibilità per cui è troppo poco per poter stabilire una casistica riguardo però indagherò magari in futuro ci sarà una risposta anche a questa domanda per cui cristal non ti sa rispondere ok mi hai detto ma tu non dormi sì infatti rispondevo anche a luna di notte va bene ragazzi io vi ringrazio e ci vediamo prossimamente ciao da Jimmy Fascida e alla prossima ciao buonanotte 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 buonanotte